Faccio una premessa, non voglio fare certo scatenare la guerra, contrapporre il lavoro privato al pubblico impiego, per l'amor del cielo. I lavoratori sono uguali, ogni cittadino di buona volontà fa il suo lavoro e lo può fare in qualsiasi campo, dal pubblico al privato. Andando a pulire i gabinetti per una ditta di pulizie, dal lavoro più umile ai lavori eccelsi nei ministeri e quant'altro, non c'è differenza. Conta la dignità, conta l'impegno, conta lo spirito di guadagnarsi il pane, però alcune cose devo dirle. Perché qui con questa storia del Covid-19, del coronavirus, con questa pagliacciata dello smart working, mi sa che stiamo proprio esagerando. Perché non è possibile che una bella fetta di dipendenti pubblici oramai lavorino poco e nulla, poco e barra o nulla, con questa scusa dello smart working, il lavoro da casa. Perché ci sono dei lavori da casa che si possono fare anche in smart working con il computer, quindi penso alle funzioni impiegatizie. E quindi bene o male lo si può fare. Ma ci sono altre attività, sempre di dipendenti pubblici, statali. Penso ad alcuni dipendenti del Ministero della Difesa. Beh, se tu sei manovale, se tu sei cuoco, se tu sei cameriere, bello mio, tu non puoi godere dello smart working. Perché cucinare il piatto, cucinare la pasta, preparare un piatto o andare a fare il falegname e aggiustare una porta rotta o fare l'idraulico, beh, questi sono lavori che di per sé sono mansioni che non si possono fare appunto con lo smart working. Con lo smart working puoi fare dei lavori di programmazione a livello impiegatizio, bilanci, programmazione, ferie, turnistiche e quant'altro. Ma fino a prova contraria, se una porta è rotta, tu devi andare e la devi riparare. Non la ripari con la telepatia da casa. Eppure lo smart working riguarda e coinvolge paradossalmente anche tanti dipendenti pubblici. Cosa incredibile. Per carità, chiariamo, io non voglio generalizzare, ci sono tanti lavoratori dipendenti pubblici che lavorano e che si danno da fare, però ci sono altri casi di dipendenti che forse protetti anche da forze sindacali ci marciano su questa situazione. E' davvero incredibile perché stiamo parlando di un paese in cui ci sono c'è tanta gente che vorrebbe lavorare, che farebbe i salti mortali per poter lavorare e poi si vede, si vedono loro a terra con le pezze al sedere e poi si vede la casta privilegiata di certi statali che sembra esente dal lavoro. Come se, ripeto, questo smart working è diventata davvero una follia. Anche perché poi ci sono anche dei casi di smart working per dipendenti che tranquillamente potrebbero stare negli uffici sul posto di lavoro perché, vedete, ci sono tanti posti pubblici, ora non voglio fare nomi perché sennò poi si creerebbe un vespaio, ma ci sono tante stanze e stanzioni così ampi a tal punto che i dipendenti potrebbero stare a 4-5 metri di distanza l'uno dall'altro e poter stare tranquillamente però sul posto di lavoro senza stare comodamente a casa. Potrebbero sollevare il sederino dalla sedia e andare a lavorare, poi ci si organizza perché ci sono tanti, ripeto, locali in cui si può lavorare sul posto di lavoro mantenendo il doveroso distanziamento sociale, quello imposto appunto dalle pratiche anti-Covid. Ma ci sono poi, come detto prima, quelle realtà dei dipendenti pubblici che svolgono funzioni proprio con materiali rispetto alle quali lo smart working è logicamente impossibile. Beh, per concludere, ripeto, non voglio gettare la croce addosso ai dipendenti pubblici, non voglio generalizzare, però ce ne sono parecchi anche supportati in maniera vergognosa da certi sindacati, certi dipendenti pubblici farebbero bene a darsi da fare, a lavorare, a muovere, a sollevare il sederino dalla sedia di casa e andare a lavorare perché è bello starsene a casa con il sedere comodamente seduto su poltrone di velluto e poi puntualmente ogni fine mese ricevere l'accreditamento dello stipendio sul proprio conto. E poi ci sono tanti laureati, tanti figli di famiglia, tanti giovani e meno giovani che si sono fatti tanto di mazzo, scusatemi l'espressione, i cui genitori hanno fatto sacrifici per mantenerli agli studi, per mantenerli all'università e poi questi li vediamo a muffire a casa e però anche a casa ci sono i dipendenti pubblici che fanno gli stra puntini puntini comodi loro. Beh, qui non devono esistere i dritti e i fessi. Dipendenti pubblici, andate a lavorare! Senza Bavaglio, un programma di inchiesta e di denuncia a cura di Luigi Abate. In onda ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 15 su Telesud, canale 115 del digitale terrestre visibile in Puglia. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre!